Che siete? Allora, ok, Nicola non c'è, è solo qua, ok. Allora vi devo dire una cosa, siccome io sono un genio, ho scoperto un modo per far sì che Nicola capisce che Carlo Alberto, quello non è in grado di fare lo spettacolo, capito? Non va bene per lo spettacolo mio. Allora io adesso ho scocitato questo piano, ok, e adesso lui capirà, adesso dovrebbe venire qui Carlo Alberto, intanto mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale, tutto quello che dovete fare, ok? Arriva subito Carlo Alberto, ciao, a tra poco. Che genio, che genio, che genio. Allora Carlo Alberto, ciao, dimmi sotto, perché ne hai voluto parlare? Che, 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 allora, visto che è andata male a pronti soccorso, no? È andata molto male, ho avuto un altro mancanamento, quindi è tornata la R e non cacchio. No, che tu non cacchissime, niente, già zitta ti dico le cose come stanno, ok? Perfetto, che, 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 no, 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 non c'è, no, 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 allora? Allora? Allora, diciamo, ok, tu vuoi, vuoi diventare attore? Si, voglio diventare un attore. Allora, visto che, a Nicola gli dico una cosa. Cosa gli devo dire? La carola matica degli attori. Quello è della mia a*****a. No, no, Nicola non vuole sentire quello. E vuole sapere che... Gli di la carola d'ordine. E quale sarei quella che lavora d'ordine? Allora te lo dico sull'orecchio, dopo gliela dici ok? Cominissimo gliela dico dopo! Allora è questa! Ma sei sicura? Sii! E' sicura? Sii sono sicura! Sii! Ok lancaverò! Ok lancaverò! Ok non gliela dici subito Nicola così è contento! E dopo dici mi farà recitare? Certo se gliela dici Sicuramente! Sicuramente cacchito! Sicuramente! Andiamo! Andiamo! Allora ragazzi mi volete di perché mi avete convocato qua proprio nel momento in cui stavo lavorando? Ho dovuto lasciar via di fa' quello che stavo facendo E questo Nicola è sempre così non ho curto lui! Che cosa vorresti dire? Basta! Che cosa? Non cominciate subito a litigare! Ok ok non litighiamo! Che cavore! Che cavore! Sotta! Eh! Mi hanno ancora in giro? No no! Che cosa? Che state confabulando voi due? Nicola ti devo dire una cosa! Che mi devi dire? Anzi! Anzi che l'esattezza della deve di lui! Lo devo dire io! Se lo devi dire tu! Isotta! Per favore! Basta! Allora! Carlo Anderto ha regalato un croino! Ma non era una cosa d'ordine! Si si si! Perché lui sa che si chiama croino uguale capito! E' uguale? Si! Che cosa state dicendo? Niente Nicola niente! Ok! Ho capito! Lo devo dire! Che cosa devi dire? Ho cagato un croino! Oh! Che provino! Disto che lui vuole calatore sul mio spettacolo! Che poi sarebbe il mio spettacolo! Si! Ok! Però così cagissi se lui è gravo! Eh! Eh! Potrebbe essere una cosa carina! Eh! Carlo Albea che provino hai preparato? Sei pronto? Io si! Che riri! Niente! Niente! Te la ricordo la carola? Si! Ricordo! Ok! Cagito! Si! Sono pronto! Vai! Ramarro marrone fritto! Ma che ramarro marrone fritto! Ho sentito Nicola! Camarro marrone fritto! Non mi caldo che in giro! No no! Ti credo in giro! Che cagazzischi! Ho sentito! Non lo sa di! Non lo sa di! Come cagano così a cagarte del mio grandissimo spettacolo! Che non è tuo! Che poi! Oh Nico! Niente! Adesso! Adesso! E cagò! Oh! Basta voi due litigare! Cioè adesso Nico! Credi che è colca mia! Ma non è per quello! Isotta! Per favore! Eh! Sei una scigna indisconente! Indisconente lo dice a tua sorella! Cagito! No! Basta! Basta litigare voi due! Cagito! Caggo! Caggo! Cagli! Ecco! Ecco! Che c'è? Buona! Ma che è? Dì! Che c'è Isotta? Hai visto? Che? Ah! Niente! Mi sono sbagliata! Ah! Ok! E... Carlo Albe? E' andato! Carlo... Ok! 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 Ti vediamo dopo! Ti vediamo dopo! Ti vediamo dopo! Vai! Io vado! Si! Ciao Nico! Ciao! allora mi raccomando mettete una like, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale con una caccia da donto e una singa bellissima ciao